Ragazzi ci siamo, estate 2023, allora qual è l'oggetto che useremo maggiormente in quest'estate quando usciamo? Gli occhiali da sole, sì, perché è una caccia all'occhiale da sole più carino, che protegge meglio l'occhio, con magari qualche funzione smart ed oggi io sono qui a parlarvi di un'azienda geniale, si chiama WeQ e realizza occhiali da sole con delle caratteristiche particolari ve li faccio subito vedere, eccoli qua, e una volta indossati guardate un po' quello che succede alle lenti con uno swipe, con questo slider laterale, quindi sulla parte destra, vado a oscurare o a schiarire la lente e allora visto che io li reputo geniali ve li racconto in questa recensione completa, dopo questo video non potrete più farne a meno Allora facciamo un passo indietro ragazzi, iniziamo dalla confezione di vendita, andiamo a vedere cosa troviamo all'interno ed è una confezione molto molto carina, che si apre a scrigno, quindi è magnetica all'interno troviamo subito una bella pochettina, una bella custodia, che contiene gli occhiali gli occhiali che stanno lì, comodi, morbidi, nessuno ve li grafferà, nessuno ve li potrà rompere e all'interno di questa scatolina altre due confezioni più piccole la prima, la prima contiene un cavetto di ricarica, quindi USB con i pin ed è un cavo con i pin magnetici, quindi cosa succede? succede che si attaccherà perfettamente, perché questi occhiali hanno bisogno di una batteria per polarizzare, per cambiare l'intensità della lente nell'altra confezione ragazzi troviamo un pannetto per pulire gli occhiali troviamo un tester per capire cos'è la polarizzazione ma anche due gommini, gommini di ricambio che sono proprio lì, nella parte dove si tengono gli occhiali appoggiati al naso eccola qua, la differenza fra una lente polarizzata o meno non abbiamo qui la possibilità di vedere il pesce mentre se andiamo a guardare con la lente polarizzata qua vediamo esattamente un pesce questi occhiali Wikyu sono leggeri, pesano meno di 30 grammi, siamo sui 29 grammi e sono realizzati interamente in plastica plastica però dall'ottima finitura, anche con dei piccoli dettagli che secondo me rendono l'occhiale molto molto figo e anche se non fossero stati geniali in questo modo io vi dico sinceramente avessi visto questi occhiali in vendita mi sarebbero piaciuti secondo me è un taglio unisex molto alla moda la regolazione della lente avviene manualmente su 5 livelli quindi lo slide va su 5 livelli non sentirete alcun clic, sarà solamente una sfocatura, una sorta di cambio luce graduale le lenti non sono graduate ma sono polarizzate e sono lenti in plastica quindi un po' delicate, pulitele con attenzione quando gli occhiali vengono richiusi vedete la lente torna chiara perché si disattivano è questa batteria qua che attiva o meno le lenti in questo caso sono all'ombra quindi non ho bisogno delle lenti oscurate e vado a renderle molto più chiare vado a regolare con questa barra laterale l'intensità della lente quindi cambia il colore quando c'è ombra io posso stare con questa lente qua senza togliermi gli occhiali quindi quando vado alla luce e da noia vado a oscurare tutto ed è una figata facciamo la prova anche in una galleria in questo momento le lenti sono nere ma se ho bisogno di vedere quindi non ho bisogno di proteggermi dai raggi UV beh le lenti diventano più o meno luminose poi quando esco dalla galleria torno sotto il sole slide e si torna con le lenti nere completamente nere e il sole non è più un problema ah che bellezza ma poi quando va via il sole torno all'ombra voglio di nuovo vederci chiaro di nuovo le lenti chiare scure chiare scure chiare scure chiare insomma ragazzi sono occhiali da provare sicuramente occhiali smart intelligenti geniali comodissimi perché se ci pensate bene prima di questi se c'era ombra non li potevate tenere questi occhiali quindi dovevate toglierli ma da quando ci sono questi potrete rimanere con gli occhiali anche con effetto figo secondo me questa lente è proprio bella poi arriva il sole e la oscurate ora mi trovo al supermercato quindi non ci sono i raggi ultravioletti che mi danno noia e allora io per vedere anche meglio i prodotti guardate che faccio vado a schiarire la lente in modo tale che possa leggere bene tutti questi prezzi magnifici ma visto che poi ci sono sempre rincari rimetto le lenti oscurate perché è meglio certe cose non vederle utilissimi soprattutto ma soprattutto quando state guidando e so che non dovrei filmare mentre sto guidando vabbè ma vi faccio vedere al volo come funzionano quando c'è sole vi dà noia il sole voi oscuratele queste lenti in modo tale che non vi dia più fastidio ma se c'è una galleria schiaritele queste lenti e allora vedrete alla grande WiiQ è talmente innovativa che non si limita a fare questo paio d'occhiali con le lenti manuali ma vi fa anche altri due modelli il primo modello decide da solo come regolarsi quindi a seconda dell'esposizione diretta alla luce solare o meno lui schiarisce oscurisce la lente ha un livello di oscuramento inferiore quindi è leggermente meno performante però fa tutto da solo e la sua batteria dura un po' meno di questo modello questo modello ha una batteria che dura due giorni pieni quindi siamo sulle 48 ore di uso continuativo l'altro modello il terzo è quello più tecnologico in assoluto perché integra oltre alla tecnologia di oscuramento e schiarimento della lente anche un altoparlante un microfono e il bluetooth quindi sarà possibile ascoltarvi la musica per esempio comodamente in spiaggia via bluetooth è il modello più smart ma dove si possono trovare questi super occhiali smart che praticamente non ha nessuno li trovate sul sito ufficiale di Wikiu vi lascerò il link sotto in descrizione il prezzo medio perché fanno un casino di offerte il prezzo medio si aggira sempre intorno alle 150-180 euro su questo range qua ma sappiate anche che si trovano su Amazon e in questi giorni se siete fortunati li troverete ad un prezzo stellare praticamente a metà prezzo siamo sugli 85 euro occhiali che non avrete mai la necessità di sfilare se passerete da luce, ombra e viceversa perché sono assolutamente comodi e regolabili secondo il vostro occhio fatemi sapere quello che ne pensate a me sono piaciuti veramente tanto questi occhiali di Wikiu vi lascerò tutte le informazioni qua sotto al video e perché no se ci sarà mai un codice sconto ma direi mai grazie per l'attenzione mi raccomando Telegram e Facebook per consultare offerte Smart Italia offerte e coupon sconti ogni giorno dategli un'occhiata e ovviamente like a questo video supporto al mio canale grazie mille ragazzi noi ci vediamo presto ciao